Buongiorno da Ilenia e da Mirko! E Mirko! Cosa andiamo ad aprire oggi? Dominatori dei tropici! I dominatori dei tropici che ci ha inviato la Sbabam! Questa è la bustina, ce ne hanno inviate quattro! Come sempre la Sbabam ci manda il posterino perché a noi il posterino dell'edicola ci piace! Eccolo qua! Aspettate! Ok! Finalmente in edicola il dominatore dei tropici visto in tv trova il top animal, minibook più bustina con un animale della barriera Coralina e la sua scheda! E qua c'è www.spabam.it Ok! Adesso questo qua magari lo attaccheremo in cameretta Cosa dici Mirko? Allora! In allegato troverete anche il libricino Vediamo se riusciamo a fare un'inquadratura un po' Ok! Allora! Abbiamo, trova le creature che cambiano colore Cambiano colore in acqua o al sole? Ecco, noi adesso al sole non possiamo provarle perché è sera, brillano al buio Vediamo un attimino Allora Ecco qua Qui abbiamo Ma mi sembra Dory Dory, vero? È il check di Dory Bravissimo! Questo è il codice Se volete usufruire del 10% Su un ordine di almeno 40 euro Penso Eh, gira Questo è il pesce pagliaccio No, quello è il pesce pagliaccio Sì, il pesce pagliaccio C'è anche Questo è Facebook e Youtube E qua parla un po' dei mari tropicali La barriera corallina Poi ve li potete leggere con calma Quando acquisterete I dominatori retropici Qua abbiamo alcune curiosità Sui vari pesci o cosi O cosi Qua è la stella marina Sì Lo squalo Il pesce chirurgo E lo squalo penna nera La scuola dei pesci Sì, bellissimo! Guarda la scuola anche loro Qui abbiamo la pubblicità di Giga, Giacchi e Rane Che noi abbiamo già aperto E abbiamo trovato Questa rana Se volete andate indietro a vedere Qua abbiamo un giochino Trova le differenze Il labirinto Unisci i puntini Chissà cosa salterà fuori E qua abbiamo Trova l'ombra corretta E qui le soluzioni Allora Allora Parti prima tu? Vai Questo Aspetta, aspetta Che facciamo prima vedere la bustina È vero Allora Questa è la nostra bustina E qui È quello che possiamo trovare Allora Aspetta, aspetta Fammi partire qua Il pesce chirurgo Che cambia colore in acqua calda Lo squalo pinna nera Che brilla al buio La morena gialla Brilla al buio La stella marina gialla Cambia colore al sole Il pesce angelo imperatore Non fa niente Questo è il top Guarda Il pesce pagliaccio Brilla al buio Ed è il top Poi abbiamo Il pesce Zan 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 Cambia colore al sole Il pesce palla Manta Orbitz Animal Manta Manta Abbiamo la manta Che cambia colore con l'acqua calda Il pesce pipistrello E la stella marina blu Aspetta Aspetta Ritorniamo su questo pesce Aspetta Non abbiamo detto il prezzo 3,50 euro Alla bustina Eh Io ho mai sentito I pesce pipistrello Non l'hai mai sentito? Mai Eh Perché non li conosciamo Tu apri Questo qua Che io apro Questo E questo qua È bello gonfio C'è l'apertura facilitata Che ci aiuta ad aprire E abbiamo trovato Il pesciolone Pallone Abbiamo trovato Il pesciolone Il pesce palla Che è un raro Buongiorno Sono pesciolone Palla Amore è al contrario Palladino Scusate Ero È girato Fallo vedere bene Guardate quanto è carino Ah Guarda È vero Dentro alle orbits Vedere se riusciamo a farle vedere Guardate Guarda Mirko Sei stato fortunato Eh Voi Voi toccate Il vero pesce palla È un vero pesce palla? No No è finito il pesce palla Ecco Allora aspetta che vediamo un attimo Il suo libricino Aspetta Qui More Qui vi racconta un po' del pesce palla Vi dice anche le dimensioni Lunghezza Bellezza Forza E caratteristica Che è velenoso Sì è vero Sono velenoso E qui abbiamo il vero pesce palla C'è Amico E qui abbiamo ancora la Il checklist Allora Apro io? Vado? Sì Ah ecco Come avevo visto Hanno la cosa per appendere Se le penedicola magari le appendono questi Vediamo Oh abbiamo trovato la manta Che è manta? La manta è un top eh? Eh sì guarda Cambia colore con l'acqua calda È un top Vai 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 Sì Dentro c'è Guarda Aspetta che si è Sono le palline di polistirolo Aspetta Ciao Bella Bene Bella E qui invece Parla della manta Se volete leggere Lei è il top animal Vuoi dire una cosa? Dimmi Quando toccate la cosa della manta Al bellone Al bellone Al pungiglione vero? Vai apri l'altra amore Ok guardate Oh ma siamo stati fortunati eh Sia il pesce panna Che questo qua che è un top Aspetta Vediamo Svilcio Vediamo se è qualcosa che ci piace Uh Il pesce palestra titano Questo cambia colore al sole Domani lo mettiamo Aspetta facciamo vedere Eccolo qua Eccolo qua Fallo vedere Ciao Ciao Adentro anche lui le Sì Guardate Ti faccio fuori No Aspetta che apriamo l'ultimo Uh L'ultimo ci piace Mirko Eh Oh La stella Già si intravede qualcosa Abbiamo trovato Oh Con gli occhietti Abbiamo trovato la stellina Sono bugiosi La stellina Anche lei Cambia colore al sole Ciao Guarda Ora una stella marina Qua va bene Bella Ehi Ciao 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 E qua Abbiamo le caratteristiche Della stella marina Adesso Due secondi Preparo l'acqua calda Scusate Preparo l'acqua calda E vediamo il colore della manta Cosa dici? Sì Arriviamo subito Eccoci Allora E' arrivata l'acqua calda Sentire? Non è caldissima Prendi la manta Prova a metterla dentro Mirko Vediamo cosa succede Scotto Si sta schiarendo? Sì Ah Guarda Caldo 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 E' diventata rosa Sì Tira fuori Guarda Guarda Bellissimo Guardate No E' Poi su Atae Poi prende una cosa Bastante grande E cosa devi fare? Per fare L'acquario L'acquario? Sì L'acquario Di Genova L'acquario di Genova Oh mio Catezzo La manta E altre cose Allora Il cambio colore L'abbiamo fatto Gli altri due Cambiavano colore al sole Quindi vediamo Se magari Facciamo domani Una foto E poi magari La metto su Instagram E ci trovate Sui legni al mondo Di morghi Così potete vedere Il cambio colore Della stellina E del Pesce balestra Titano Al sole Bene Noi vi salutiamo Vi mandiamo Un bacio grosso Ringraziamo Las Baban Per averci mandato Questi dominatori Dei tropici E ci vediamo Al prossimo Video Ciao Saluta Mirko Ciao 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 Ciao